Salve a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione dei cult. Cosa vuoi dire? Ma non c'errebbe essere Dr. Drago? Eh eh, Dr. Drago è cult sì, ma cult horror non cult di film normali. Qualche volta si è presentato ma lui vuole venire solente nei film horror. E chi ci possiamo dire? Lui comanda, come sapete. Anche se non comando un cazzo. Oggi siamo qua, lo so, vedete lo stesso cofanetto della scorsa sotto perché questo era il cofanetto di Mad Max, quindi non posso far vedere fisicamente il secondo film. Vai qua dietro. Qua abbiamo l'inizio del post-apocalittico, l'inizio di un qualcosa che nessuno si avrebbe mai aspettato negli anni a venire, no? Tanta gente non lo sa che Mad Max 2 ha dato l'idea a tutti quelli di oggi. Se non me Giorgio mi doveva fare un qualcosa, prendersi i diritti di questa cosa del post-apocalittico. Perché come l'ha immaginato lui, è entrato mai nell'immaginario collettivo con tutto questo genere, con i capezzoli di fuori, tutte queste creste colorate, tutti questi di pelle nera, persone con questi arco e frecce dentro quelle balestre. Cioè è entrato proprio nell'immaginario questo fatto che se mai arriverà il giorno che siamo agli sgoccioli di tutto e finisce tutto, noi immaginiamo che finisce proprio in questa maniera. Ovvero che ci scanneremo tra di noi, ci mangeremo tra di noi, ci ruberemo di tutto e di più. Perché già Giorgio Miller vede che già il mondo è una merda com'è. Quindi se abbiamo un libro completamente libro abitrico, perché uno dice abbiamo un libro abitrico, sì. Fino a un certo punto. Ovvero se tu esci fuori e ammazzi qualcuno va in galera, non è molto libero. Perché siamo in un mondo che fortunatamente ci abbia una legge e tutto e quindi può fermare questi maniaci pazzi. Il nostro Max si ritrova a girare, a vagare in queste landa e desolate con la sua V8 fierissima, la sua Interceptor, con il suo cane che gli fa da spalla e che lui si fida più di lui che di qualcun altro o di qualsiasi altro essere umano. Perché sa che ormai non c'è più umanità. Abbiamo una fotografia davvero bestiale, veramente curata. Abbiamo Mel Gibson che è al top. A parte ripetere sempre che è un bellissimo uomo, che abbiamo detto, io magari fossi così come Mel Gibson. Ma c'è oggi schifo. Penso che Mel Gibson aveva la mia età, forse quando faceva Mel De Max. Non lo sappiamo. E c'aveva pure tutti i capelli. Fin ancora oggi c'aveva tutti i capelli. A 70 anni c'aveva ancora i capelli. Io invece sto perdendo tutto, pure i peli del cazzo. Il nostro Mel Gibson, che l'unica cosa di interesse, come sapete, Max, non è un eroe. È un piandante, una persona che va, gira, minchia e può succedere che si inizia un'avventura così. Cioè non è il classico film che per forza di pretesa il nostro lista deve essere buono per forza, deve aiutare per forza la gente. No, pensa soltanto a se stesso, ovvero avere la benzina per potersi spostare, no? E fa la conoscenza di questo gruppo, di questa cittadina piccolina. Questa piccolissima colonia. Questa colonia che ha la fortuna, ovvero, che sia in un punto proprio dove poter prelevare proprio dalla fonte il petrolio. E abbiamo un gruppo di cattivoni che vogliono proprio il petrolio di questi cittadini. Questi cittadini spero più sono tutte donne anziani, quindi non sono molto addestrata a guerriare. Guerriare fa schifo, ho detto così, però a fare guerre, eccetera. Non so. Un paio, abbiamo messo giovani. Sì, pochi. Abbiamo donne guerriero, eccetera. Quindi Max dice, oh, io vedo una mano. Se me la da benzina sarebbe anche bene, perché Max prende e gli porta uno dei loro compagni, perché Max assiste a questi poveri disgraziati che vengono rapiti e anche stuprati, una della donna di quest'uomo, e anche uccisa. E qua il nostro Max preleva l'unico cristiano che è rimasto. Fa anche l'amicizia con un tipo strano, con i dendi gialli, certo c'era, eccetera. No, forse se lo scorda. Ma siccome gestire tutta sta agenda, truccarli tutti, certo scordate, metteci i dendi gialli a qualcuno. Può capitare. Il nostro cattivone che sembra uscito un po' dalla WWE, da WWE, con questa maschera di benedit 13 tipo Jason, da Hockey, anche lui fa la sua presenza, la sua essenza di essere cattivo. Non è perché te lo dicono che è cattivo, ma è un tizio di due metri, a capezzoli di fuori, tutto nudo, tutto con questo... abbiamo dei vestiti che poi entra in un immagine collettivo come lui, Max, con questo braccio sbracciato, non so perché, c'è questo giubbotto, c'è una manica corta, questa parte qui, che diventa per forza caldo. Io non so chi è stato infortunato a vederci ai tempi, quando uscì al cinema. Chissà, se uno dei miei iscritti che sono i tentanti, siete... siete grandi, no? Nel senso di età, nel senso non mangiare i 10, sono grandi, ho 20 anni, no? Però di gente di 50 anni, 60 anni che mi seguono qua nel canale. Dei veterani. Eh, tipo Francesco Ippolito, spero che l'avrà visto a cinema, no? Penso. Non lo sappiamo. Ce l'ho a scrivere a questo ottenimento. Io vi consiglio di andare a recuperare un film veramente che vale la pena. Ok, dici, non è un grande tramone il fatto di lui, di aiutare questa gente per la benzina a spostarsi. Ma proprio la semplicità, nel senso non c'è bisogno di fare una storia super complicata, un po' alla Christopher Nolan per fare poi il pippone che dici minchia, oh George Miller, cazzo, ti riesci a fare cose che tu non capisci una minchia, nel senso fai trame complicatissime. Si va sempre sulla semplicità, perché la semplicità vince sempre. Prendete una margherita, prendete una margherita. È meglio di qualsiasi attraverizzare, digeribili, a qualsiasi orata la puoi mangiare e non sta neanche male, se è fatta però dalla pizzeria giusta, no? Perché se è fatta con l'immerda, te la fanno tipo con pomodoro crudo, che è capitato un sacco di tanti pizzerie, allora è proprio da denuncia penale a loro. Io ho detto questo, non c'è nient'altro, la devi andare a vedere in Mad Max. Arriverà la recensione, sì, anche di Mad Max, oltre a Sfera del Tuono, arriverà anche la recensione di Mad Max Fury Road. Quindi, piano piano arriverà un po' tutto. Detto questo, io vi ringrazio di essere riferita qua, se si riferita qua, che io penso che la utilizzerà Barbara Rossi, questa hashtag. Hashtag, me Gibson eri buono. Va bene? Detto questo, io saluto a tutti e ci vediamo un prossimo. Mi raccomando, iscriverete? Che siamo a 990, 10 iscritti, dai, dai, che ci arriva? Fate iscrivervi i nonni e le nonne, anche se non sono più vivi tra di noi, fateli iscrivere. Cioè, prendete i vostri telefoni, no? Che sono le loro mani fredde e li restrappate e li fate iscrivere al canale. E condividete. Parte questo, parte gli scherzi. Fate iscrivere chiunque, nipotini, nipotine. Gente, più ne abbiamo, meglio è. Detto questo, io vi saluto e caraggia Katia, deve cucinare, io ho fame. Grazie.